Una nuova identità per l'area Pratacci che da zona industriale adesso rivendica lo status di città polifunzionale. A lanciare la sfida è stato il Consorzio Sviluppo Pratacci nato nel 1920 per promuovere appunto la riqualificazione dell'area. Si tratta di sostanzialmente individuare una visione per lo sviluppo di una parte di città fino ad oggi monofunzionale e per far sì che con le forze dell'imprenditoria privata possa un giorno trasformarsi in un vero e proprio pezzo di città. Naturalmente non è ancora un vero e proprio progetto, è una visione delle strategie per attuare questa visione con il supporto tecnico e il benestare dell'amministrazione che naturalmente deve partorire le regole di questo gioco. Noi abbiamo appena concluso la fase di richiesta ai cittadini, ai imprenditori, di idee o di considerazioni su quella che vorrebbero che fosse la città del 2020 e quindi da questa analisi emerge che ci sono vari tipi di richieste sia del singolo cittadino che ha bisogno di ampliare la casa perché mette su famiglia un figlio che risiede con i genitori ma anche temi più importanti, più coinvolgenti e secondo me anche più sfidanti come quello che propone il Consorzio Pratacci dove un pezzo di città nato con una impostazione urbanistica ormai superatissima, citavo prima il 1971 in cui già allora si parlava di superamento delle aree omogenee, beh anche quella parte di città invece è nata come un'area sostanzialmente omogenea. Il superamento di questo con un processo di trasformazione non può che portare a una potibilità importante per quel pezzo di città sia per i cittadini che potrebbero cominciare a fruirla per motivi legati all'acquisto, al commercio o anche al semplice divertimento ma secondo me anche e soprattutto per attrarre investimenti da fuori città che possano portare in quell'area capitali per il processo di trasformazione. Una riqualificazione che si renda ancora più necessaria in conseguenza agli anni di crisi con cui hanno dovuto fare conti anche le imprese di Pratacci crisi che ha lasciato il segno agli imprenditori dell'area infatti si ritrovano a pagare tasse ed imposte sui mobili inutilizzati per un totale di 350 mila euro all'anno stando alle stime del Consorzio. Il 30% degli immobili adesso non sono utilizzati, addirittura in certi punti si arriva al 40% quindi sono proprietari che devono pagare comunque delle tasse senza un ritorno economico e questo non ha assolutamente senso in un mercato come questo attuale.